eccoci di nuovo insieme per proseguire questa nostra prima diretta di oggi con le notizie sportive pubblicate dai eh quotidiani di oggi e cominciamo la nostra rassegna stampa dalla gazzetta dello sport che apre proprio con la partita fra Udinese e Milan e che si è giocata ieri sera alla Dacia Arena una partita vinta dal diavolo nel recupero al novantasettesimo il gol di eh Romagnoli che ha deciso l'incontro e la gazzetta titola Romagna Milan altro gol nel recupero al novantasettesimo ormai è zona diavolo decide di nuovo il capitano segna Romagnoli sempre lui confermando il quarto posto dei rossoneri sono nove punti in otto giorni c'è l'allarme Higuain per il Milan e Gattuso dice voglio più eh veleno allora andiamo a vedere il gol che ha deciso la gara di eh ieri al novantasettesimo il gol di eh Romagnoli che ha gelato la eh Dacia Arena lasciando l'amaro in bocca ai eh tanti tifosi eh dell'Udinese presenti ieri sera allo eh stadio qui vediamo ancora alcune azioni dei bianconeri e tra poco il gol che eh ha deciso l'incontro eccolo qua un eh passaggio infinito una sala infinita di passaggi fra i difensori del Milan fra i giocatori del Milan in area dell'Udinese e poi il gol di eh Romagnoli che eh appunto decide la gara decide il eh match e allora sfogliamo un po' le pagine della gazzetta eh dello sport e andiamo a leggere i eh titoli che troviamo nelle pagine interne l'ultima parola è sempre di Romagnoli scrive la gazzetta urlo Milan al novantasettesimo il capitano a Udine in gol nel recupero come con il eh Genoa Gattuso resta aggrappato alla zona Champions perso Iguain è stato decisivo l'impatto di Castillejo lo strano caso del difensore che vince al tramonto scrive ancora la gazzetta dello sport Pipita si fa subito male? Cutrone e Suso sono in giornata no? Nessun problema. Nessun problema Milan c'è capitano Romagnoli che risolve i problemi che mai dire mai che coglie l'attimo e che mantiene in zona Champions secondo gol all'ultimo respiro stavolta col giallo Var quando l'arbitro eh convalida l'esplosione di gioia dei giocatori la dice lunga sulla determinazione e l'unità di squadra Gattuso incluso ovviamente questo Milan con qualche cerotto e con l'aggiunta dell'infortunio precoce di Guain ha sette vite e un cuore grande e Alessio Romagnoli come protettore contro il Genoa strappa i tre punti al primo minuto di recupero a Udine aspetta che la Clessidra finisca di far scendere del tutto la sabbia per fare il suo show personale ruba palla o poco in mezzo al campo parte spedito verso l'area e poi gioca al Torello con Suso fino alla sassata all'incrocio e voilà terza vittoria di fila e udite udite porta inviolata dopo sedici gare diavolo nel giusto cammino verso le sfide tostissime con Betis e Juve questo l'inizio dell'articolo della gazzetta dello sport che poi prosegue analizzando un po' la gara e possiamo anche far partire le immagini gli highlights della gara di ieri sera e non è che l'impegno fosse facile scrive ancora la gazzetta dello sport l'udinese stavolta con Pussetto vicino a Lasagna è stata più compatta e pericolosa del solito per buoni tratti ha messo paura al Milan ma è stata imprecisa sottoporta spesso è sembrata una sfida da altri tempi abbastanza priva di accorgimenti tattici non tanto per la disposizione delle squadre ma per la diciamo spensieratezza nella fase di non possesso la prova è nelle numerose occasioni da una parte e dall'altra a livello di numeri ne ha avute più l'udinese con un Pussetto vivace e sempre pronto al tiro ma in fatto di pericolosità è stato il Milan a creare più brividi con il solito Suso per Higuain toccato duro dopo mezz'ora ma da Mandragora tra fianco e schiena Gattuso ha scelto come sostituto Castillechio e in sostanza non ha cambiato la tattica anche se nelle volte in cui Cutrone si allargava in fascia il Milan si tramutava in un 4-3-3 nel secondo round è partita meglio l'udinese ma poi è uscito di forza il Milan deciso a non fermare la sua corsa ai piani alti è stato spinto anche dall'intenzione di Gattuso che ha inserito Borini al posto di Laxalt per un più deciso 4-2-3-1 la mossa decisiva è stata spostare Suso dietro Cutrone e lasciare Castilleio alle scorribande di fascia dopo qualche brivido subito da Lasagna e Pussetto bravo Abate a togliergli palla in aria il diavolo avrebbe potuto risolvere prima il problema del gol ma Suso si è dimostrato molto più impreciso del solito e così Romagnoli ha dovuto invertarsi il secondo Coupe de Teatre per portare la squadra in Porto. Questa l'analisi della gara fatta dalla eh gazzetta eh dello sport che poi e dice anche chiamate la zona Alessio Champions e presto continuiamo così poi vedremo quello che eh accadrà la gara eh di ehm ieri ha chiuso ehm andiamo a vedere anche i risultati eh della della giornata di eh ieri attraverso la eh grafica della ehm gazzetta eh dello sport dicevamo la partita di ieri tra Udinese e Milan ha chiuso eh la classifica ha chiuso l'undicesima giornata iniziata venerdì con eh Napoli e Empoli eh finita cinque eh a uno poi vediamo Inter Genoa cinque a zero Fiorentina Roma uno a uno Juventus Cagliari tre a uno e ieri le altre gale con la vittoria della Lazio sulla spalle per quattro a uno vince il Sassuolo contro il Chievo in trasferta per due a zero zero a zero tra Parma e Frosinone il Torino batte la eh Sampdoria eh per quattro a uno a Genova poi la vittoria eh dell'Atalanta sul Bologna per due a uno e la vittoria del Milan sul Udinese per uno eh a zero vediamo anche la classifica con in testa la Juventus a trentun punti Inter e Napoli a venticinque poi Milan e Lazio a eh ventuno Sassuolo a diciotto Torino a diciassette Fiorentina e Roma a sedici Atalanta e Sampdoria a eh quindici Parma eh e Genoa quattordici Cagliari tredici Spal dodici Udinese e Bologna a nove punti Empoli e Frosinone sei eh Chievo a eh meno eh uno e ancora eh sempre per quanto riguarda l'Udinese andiamo a vedere anche i quotidiani locali andiamo a vedere il messaggero Veneto così leggiamo anche i titoli della stampa locale il messaggero Veneto apre con questo titolo Udinese la beffa è atroce all'ultima azione vince il Milan i bianconeri non segnano mai ma reggono poi o poco si addormenta regala un pallone a Romagnoli e eh decide tutto questo il titolo di eh apertura del messaggero Veneto di oggi tra poco andremo a eh vedere anche eh gli altri titoli andremo a sentire anche i commenti dei eh protagonisti prima però come sempre il consueto collegamento con la centrale operativa della polizia locale al telefono oggi abbiamo il vice ispettore Silvestri buongiorno buongiorno allora eh la situazione nonostante comunque ci sia pioggia la situazione è tranquilla il traffico è regolare eh non ci sono problemi particolari da rilevare tranne eh le solite chiusure che abbiamo parziali che abbiamo in piazza primo maggio e in via San Francesco ehm ricordiamo che tutto il personale comunque sempre eh all'attenzione appunto delle per le condizioni meteo per le conseguenze magari che eh potrebbero esserci quindi siamo eh tutti all'era in stato di all'estra comunque. Perfetto grazie allora al vice ispettore Silvestri eh fortunatamente al momento nulla di particolare da segnalare però l'allerta è eh comunque ehm elevata anche a causa del eh mal tempo. Rientriamo in studio ringraziamo i vigili urbani per il consueto aggiornamento sul traffico rientriamo in studio ritorniamo sui eh quotidiani di oggi andiamo a leggere ancora qualche titolo il punto di Antonio Simeoli la squadra di Velasquez non fa mai gol una botta che rischia di essere devastante scrive ancora il eh messaggero Veneto e poi le parole del mister Don Julio dice giocato bene meritavamo un punto ma quel pasticcio alla fine ha ehm rovinato i piani Velasquez dice che i suoi hanno giocato per la società non per lui con le grandi sempre perso ma eh non abbiamo fatto eh male so che brucia quando si perde negli ultimi minuti nel recupero Rino Gattuso allunga una carezza all'udinese ricordando le amarezze del derby ma alla fine non concede l'onore delle armi a Julio Velasquez considerando che chiude con una considerazione il commento sulla sua vittoria al Friuli meritavamo di vincere per quello che abbiamo fatto soprattutto nell'ultima mezz'ora di gara quando abbiamo più volte sfiorato il eh vantaggio e poi eh ci sono anche le eh parole di eh Velasquez in questo eh articolo Velasquez che eh dice è stata la miglior partita dell'udinese quest'anno abbiamo fatto una gara che meritava almeno eh un eh pareggio la risposta del gruppo non hanno giocato per me hanno giocato per la maglia per la società siamo dei professionisti legati anche ai risultati ma non è normale per una squadra come l'udinese affrontare un calendario come quello che abbiamo avuto in questo avvio di campionato con Lazio Juventus Napoli Milan in casa con la prospettiva di affrontare la prossima volta eh la Roma abbiamo perso anche stavolta ma non sempre abbiamo fatto eh male ha detto eh Velasquez che poi aggiunge dobbiamo migliorare abbiamo tanti ragazzi che vengono da realtà diverse che che hanno molta esperienza ad alto livello e non possiamo fare errori come quello dell'ultimo minuto quello di Opoku che ha permesso al Milan di andare in gol è un errore che fa male davvero queste le parole di Velasquez andiamo adesso a sentire anche le parole di eh Pradè al termine eh della partita al microfono di Francesco Pezzella sentiamo la vovinte una situazione che ce la siamo distrutti stasera c'è poco da dire siamo distrutti come sono distrutti i calciatori sono distrutto il staff tecnico sono distrutti i tifosi perché abbiamo fatto un'ottima gara perderla al novantasettesimo ti lascia proprio l'amaro in bocca no? E oggi dirti che eh prendo la prestazione ti dico una stupidaggine perché perché c'è troppa amarezza sarà una nottata durissima da passare domani mattina sarà ancora peggio eh adesso bisogna lavorare sulla testa di questi ragazzi perché non sarà facile sono ragazzi giovani che vivono vivono di entusiasmo e queste possono essere botte di delusione grandi ma stavano scarico sulla punta la partita era finita perché aveva dato un minuto in più di recupero era diventato un minuto e mezzo poi alla fine l'ha fatta giocare perché palla persa eh errore individuale l'Opachi l'Opachi con gente che ha qualità volevano vincerla perché sono una squadra forte le partite vogliono vincere fino alla fine però bastava poco bastava uno scarico centrale scarico sulla punta e li metti anche in difficoltà perché loro stavano col baricentro molto alto e a quel punto la partita la puoi vincere anche te solo che oggi il pareggio sarebbe stato importante perché i risultati erano tutti a favore il Bologna aveva perso l'Empoli aveva perso prendevi un punto prendevi fiducia prendevi entusiasmo e invece te ne torni a casa così non è facile non è facile non è facile perché 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 come la vivo male io la vivono male tutti ecco però domani bisogna svegliarsi e cambiare cambiare quello che ho questa diciamo portare pagina di dolore che c'hai addosso e portare portare la tua voglia di fare ecco questo bisogna fare è un peccato perché comunque abbiamo fatto 95 minuti di partita comunque a viso aperto abbiamo avuto occasioni noi occasioni loro però è una bella partita poi la finale c'è stata una sciocchezza comunque sono tanti giocatori giovani e magari devono migliorare anche sull'intelligenza tattica e però ripartiamo dalla prestazione dei 95 minuti perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro un attimo milan e quindi dobbiamo ripartire da lì in vista adesso dell'Empoli dicevamo anche con gli altri ospiti che sono venuti qui nel salottino bisognerà lavorare se venuti adesso più sulla 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 testa e soprattutto sui più giovani per cercare di superare lo shock di una sconfitta che è arrivata assolutamente immeritata per quello che si è visto e continuare evidentemente anche su quello che avete fatto dal punto di vista tecnico e tattico perché la squadra stasera ribadiamola ancora ha giocato bene avete giocato bene ma penso che ci sia da lavorare più che altro sul campo perché a livello di testa si è visto anche nella partita c'è una mentalità e quella giusta il lavoro la dedizione ce l'abbiamo l'impegno anche dobbiamo migliorare appunto sul campo e penso che sia quello da migliorare in settimana Queste dunque le parole di Pradè e di Lasagna ritorniamo adesso sui quotidiani di oggi andiamo a vedere un po' di pagelle sul messaggero Veneto Musso vola e chiude la porta incolpevole sul siluro finale un 7 per il portiere bianconero il migliore in campo secondo il messaggero che poi da un 4 a Opoku 6 a Ekong, 5 e mezzo a Samir, 6 a Teravest, 5 e mezzo a Fofanà, 6 e mezzo a Mandragora, 5 e mezzo a Depol, 6 e mezzo a Larsen, 7 a Pussetto, 6 a Lasagna Senza voto Noiting, Balic e D'Alessandro e poi prima di passare anche al gazzettino vediamo anche questo titolo che ci riporta un po' anche ai temi di cronaca Carnia ferita dall'alluvione, l'abbraccio dello stadio, striscione della Curva Nord dedicato agli abitanti delle zone colpite dal maltempo e poi momenti di nervosismo nella parte superiore dei distinti dopo il gol dei rossoneri Ed ecco qua anche lo striscione esposto dalla Curva Nord, Chiarnielle, Tendur, questo il messaggio della Curva Andiamo sul gazzettino, il gazzettino del Friuli, andiamo a vedere anche qui i titoli dedicati all'Udinese Andiamo subito sulle pagine con l'articolo sui bianconeri, sconfitta senza senso, così brucia, scrive il gazzettino Julio Velasquez se picchia duro su o poco in una partita del genere non si può perdere una palla così importante Il tecnico di nuovo a rischio, scrive il gazzettino, su di lui l'ombra di Prandelli A pochi giorni da Halloween l'Udinese vive la sua storia dell'orrore nella serata della Dacia Arena Con ancora l'insospettabile Alessio Romagnoli Dopo il Genoa anche l'Udinese diventa vittima dei rossoneri all'ultimo istante Dopo una partita giocata decisamente meglio dell'avversario A tradire la squadra è Nicola Soppoco, troppo ingenuo per essere vero, malincubo e è realtà, scrive Il gazzettino, e vediamo anche le parole di Lasagna, perdona l'errore nel finale Un peccato di gioventù, il pari ci stava, scrive il gazzettino Vediamo anche qui le pagelle di Guido Gomirato Poku, Incubo, Depol regge ma brilla meno Vediamo un 7 per Musso, 4 per Opoku, 6 per Econ, 5 e mezzo per Samir, 6 Teravest, 5 Nointing, 6 Mandragora, 6 Fofanà e Depol 6 e mezzo per Struger Larsen, 6 per Pussetto, Lasagna e Velasquez Questa è la pagina del gazzettino dedicata all'Udinese Vediamo anche la prima pagina del fascicolo sportivo del gazzettino con l'Udinese nel taglio basso Beffa atroce al 97esimo, Udinese gelata, scrive ancora il gazzettino Non era iniziata bene con il fortunio di Antonin Barak durante il riscaldamento C'erano tutti i segnali di un'altra serata stregata, la solita contro le grandi E' andata anche peggio, scrive ancora il gazzettino Perché la sconfitta arrivata dopo 7 minuti di recupero fa male, troppo male In primo piano anche il Pordenone, Pordenone che ieri ha pareggiato contro la Fermana per 2 a 2 La rimonta nero-verde, era sotto di due gol il Pordenone che in 10 risale dal 2 a 0 al 2 a 2 Ma la Fermana batte il Teramo e lo sorpassa al vertice della Serie C Ciurria segna e poi viene espulso, il difensore di Agostini firma il pareggio con un colpo di testa Il bel Pordenone cede il passo alla brutta Fermana, scrive il gazzettino Allora andiamo a vedere proprio i gol della partita tra San Benedettese e Pordenone Come abbiamo letto un pareggio in rimonta Il Pordenone era andato sotto di due gol a San Benedetto del Tronto Dopo 4 minuti la prima rete dei padroni di casa con stanco Abbiamo appena visto il gol e i festeggiamenti dei giocatori e dei tifosi anche della San Benedettese Ecco qua il replay con questo velo che libera di fatto l'attaccante della San Benedettese Che non sbaglia, qui c'è il raddoppio all'ottavo minuto Va in gol signori ed ecco ancora qua la rete Il gol è arrivato appena 4 minuti dopo la prima rete sotto di due gol Praticamente dopo 10 minuti il Pordenone nell'intervallo riordina le idee Inizia a giocare meglio e al sessantesimo Ciurria trova la rete che riapre la partita Ecco c'era dunque le distanze il Pordenone C'era anche un gruppo di tifosi a seguire la squadra in trasferta Vediamo il gol ancora di signori dalla distanza Un tiro che riapre i giochi Riaccende le speranze del Pordenone che al settantacinquesimo Con questo gol di Capitan De Agostini Porta a termine l'impresa la rimonta E si porta a casa un pareggio importante Che non basta però per mantenere la vetta della classifica Rivediamo ancora il gol di testa su calcio d'angolo di Capitan De Agostini E' finita dunque 2 a 2 fra San Benedettese e Pordenone Il gazzettino scrive, ci pensa, sempre De Agostini Piazza partita, scusate, pazza partita al Riviera delle Palme Marchigiani sul 2 a 0 dopo soli 8 minuti Aguantati nella ripresa dal Pordenone Ciurria segna e si fa espellere poi il laterale sinistro Pareggia con un imperioso colpo di testa su corner Del solito Burrai Dopo 9 giornate alla decima I Ramarri lasciano il primo posto in classifica Li scavalca la brutta quanto sorprendente Fermana Che al blitz del Bottecchia 1 a 0 Ieri ha fatto seguire la vittoria in casa con il Teramo 2 a 0 Portandosi a quota 20 un punto sopra il Pordenone E poi anche qui abbiamo le parole di Mister Tesser che dice Bella reazione dopo lo shock Tesser vede il bicchiere mezzo pieno e non cura la classifica Il risolutore esulta, ho segnato una rete importante Queste le parole di Agostini Chiudiamo adesso un attimo le pagine del Gazzettino per aprire Il nostro primo collegamento esterno di oggi Il primo collegamento di questa mattina che ci porta in città Allora vediamo dal nostro monitor di servizio che è pronto Davide Zanirato Davide a te la linea, buongiorno Buongiorno Angela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori Siamo live sotto il cavalcavia Gino Pieri Per farvi vedere come si sta risvegliando la città In questo lunedì che è già molto trafficato Questo è uno dei nodi cruciali della viabilità cittadina Con le emissioni da chi arriva da fuori città Dal viale Pasolini e poi via Cotonificio Via Pieri e dalla destra, dalla mia destra La strada di via Cadore Quindi grande concentrazione di traffico Una situazione oggi peggiorata anche dalla pioggia Che cade dal mattino presto Con tante auto e i mezzi di trasporto I mezzi di trasporto pubblici che stanno portando gli studenti a scuola Al momento non sono segnalate particolari criticità Circa mezz'oretta fa c'era stato un piccolo intervento Dei vigili del fuoco proprio qua nei pressi di via Gino Pieri Per un incendio risolto in poco tempo Per quanto riguarda poi le altre situazioni critiche Come ci hanno spiegato anche dalla sala operativa della polizia locale I nodi di emissione in città sono i soliti Con Piazzale Osopo e poi la zona della stazione ferroviaria Per quanto riguarda invece Angela Sempre sotto l'aspetto della viabilità Spostandoci in montagna Sappiamo che in queste giornate ci sono stati grossi disagi Proprio per la viabilità locale Abbiamo fatto il punto stamattina Della situazione sulle strade Sulle arterie che conducono in alto Friuli Sono state tutte riaperte Le principali a tempo di record Come la statale 52 Carnica Fino a Forni di sopra al passo della Maurea E la 355 verso Sappara Così come la statale 52 bis di Monte Croce Aperta fino al passo di Monte Croce Ma perché lì poi non si può proseguire Ci sono ancora problemi di viabilità nel territorio austriaco Per il momento il punto sulla situazione in città è questo Noi tra poco ci sposteremo Anche per farvi un po' il quadro dell'agenda di giornata Di quello che succederà oggi nella nostra regione Tanti appuntamenti importanti Ve li racconteremo tra poco A te Angela Grazie, grazie Davide per questo primo aggiornamento Abbiamo visto anche l'immagine della pagina infotraffico di Autovie Venete Anche in autostrada al momento la situazione è tranquilla E allora adesso ritorniamo un attimo sui quotidiani di oggi Per proseguire questa nostra rassegna stampa sportiva Stavamo parlando del Pordenone Il messaggero veneto titola carattere Pordenone Va sotto di due gol Poi rimonta in dieci Neroverdi senza Gavazzi e Bombaggi Dominati nel primo tempo dalla San Benedettese Rivoluzione nella ripresa ci riassegna Viene espulso pareggia De Agostini Questo è il film della partita De Agostini goldice evitata Una pesante sconfitta E Tesser sottolinea Che manca un rigore Queste le parole E l'appunto anche del mister Del Pordenone Questa è la pagina del messaggero veneto Con gli articoli dedicati al Pordenone Andiamo a vedere anche la classifica In testa c'è la fermana a 20 punti Il Pordenone è un punto dietro 19 La Triestina giocherà questa sera Contro Giana Erminio Si gioca alle 20 e 30 Un'altra parentesi adesso Quella dedicata al meteo Alle previsioni del tempo Con l'Osmer Arpa Al telefono Oggi abbiamo Sergio Nordio In diretta dalla serie dell'Osmer Buongiorno Sergio Buongiorno Buona settimana a tutti Abbiamo sentito di una nuova allerta meteo Di grado giallo Quindi raccontaci un po' Come sarà questo lunedì Sì Beh diciamo che intanto Anche per fare un po' di chiarezza L'allerta gialla riguarda Settore idrogeo Quindi non è che arrivino fenomeni meteo Così importanti Ecco perché ci sono due tipi di alerta Quella dovuta proprio al fenomeno meteo previsto E quella agli effetti Che invece sul territorio Chiaramente in questo caso Con le ferite della settimana scorsa Basta anche relativamente poca pioggia Per dare degli effetti sul territorio Per quanto riguarda oggi I prossimi giorni continuerà a piovere Ci saranno piogge localmente anche abbondanti Soprattutto sulla zona prealpina Delle prealpi carniche Della Carnia Sono piogge non però paragonabili Agli eventi della settimana scorsa Quindi continueremo a avere pioggia Per oggi, domani Prodente anche per mercoledì Saranno piogge intermittenti Quindi ci saranno delle pause Localmente potrebbe esserci qualche rovescio Temporalesco Resta comunque un'atmosfera Mite, sciroccosa E quindi le temperature restano piuttosto alte Su valori un po' sopra la media del periodo Quindi rimane tempo grigio Direi per gran parte della settimana Probabilmente avremo un'attenuazione delle piogge Nella giornata di giovedì Ma sarà coramente da confermare Vedendo se arrivano altri fronti Oppure se rimane un po' di umidità Con della nuvolosità e basta Quindi condizioni grigie, umide Insomma a novembre Quest'anno mostra questa faccia qua Perfetto, grazie Grazie allora Sergio Nordio Per questi aggiornamenti Ci risentiamo domani Per tutte le ultime novità Intanto dobbiamo fare i conti Con questo clima Che è con questo tempo Che è un po' il tempo tipico Diciamo così di novembre Ritorniamo sui quotidiani di oggi Ma cambiamo sport Parliamo di basket Perché ieri ha giocato e vinto Prima vittoria in trasferta Per la GSA a Piacenza Cuore, gruppo, impresa, GSA a Piacenza Subito senza Powell Caviglia, KO Gli udinesi non mollano Lo strappo arriva Con un'incredibile finale di partita Primo squillo in trasferta Per la palacanestro Udine E vediamo Le prime righe Dell'articolo di Giuseppe Pisano Il pala bianca si conferma Terreno di conquista Per la GSA Che coglie il primo successo stagionale Lontano da casa E inizia a dare Continuità Ai propri risultati E' un successo molto pesante Quello colto da Pinton e Soci E non solo perché permette di continuare La risalita in classifica I due punti sono arrivati Con una prestazione di grande carattere In una gara giocata per tre quarti Senza Marshall Powell Uscito per infortunio Dopo un grande avvio Se dopo lo stop interno Contro Monte Granaro Si parlava di squadra fragile Nei momenti chiave Ora si può rileggere il tutto In ben altra maniera Questa GSA sta prendendo coscienza Della propria forza Comprese le cosiddette seconde linee Assolutamente decisive In poche parole E' una vittoria di squadra E poi vediamo anche le pagelle Del messaggero con un mortellaro Da incorniciare Scrive il messaggero Cortese male ma poi e decide Un sette e mezzo per mortellaro Ma un sette e mezzo anche a Pinton Sei e mezzo a Simpson Sette a Powell e a Nicolic Sei e mezzo a Pellegrino Sei a Cortese Cinque e mezzo a Penna Sette a Spangero E cinque e mezzo a Genovese Queste le pagelle del messaggero veneto E vediamo anche qui uno sguardo Anche alle altre partite Oltre alla vittoria di Udine a Piacenza Per settantate a sessantacinque Vediamo anche Treviso che batte Verona Per settantacinque a sessantacinque Vittoria in trasferta di Cento a Cagliari Ottantasette a Settantasei Lavoro più Bologna batte Manto Va a Ottantasette a Settantatré Imola Vatte Ferrara Settantatré a Sessantatdue Poi vediamo Montegranaro che perde In casa contro la Becchia di Piacenza Settantatré a Sessantatdue Poi Ravenna e Forlì E' finita a Settantotto a Settantacinque Rosetto ha battuto Iesi Ottantasei a Cinquantasette E vediamo la classifica Con Lavoro più Bologna in testa a dodici Montegranaro a dieci E poi via via tutte le altre La più è a quota sei E vediamo anche qui le parole di Coach Cavina Contento sistemata la difesa Adesso l'attacco Il GM e Micari Cepedone Aggiuncono intensità super e senza Marshawn Powell Aggiuncono ottime notizie Scrive ancora il messaggero Dal Palabianca di Piacenza La GSA ha ottenuto il primo successo esterno Della sua stagione Continuiamo a sfogliare le pagine Del messaggero Veneto E andiamo a dare un'occhiata Anche ai risultati Che ci arrivano Dalle altre Categorie Scendiamo un po' Di categoria Andiamo a parlare di calcio Dilettanti Andiamo a vedere I risultati Della giornata di ieri Siamo in eccellenza E vediamo una delle notizie del giorno La vittoria del Flaibano Sul Lumignacco Per 3 a 0 Il Lumignacco sbaglia tutto Il Flaibano nulla Ospiti che gettano alle ortiche Una valanga enorme di occasioni Mentre i padroni di casa Sono perfetti In fase realizzativa La sconfitta potrebbe costare cara a Conte La cui panchina è meno stabile del passato E poi vediamo anche la sconfitta Del Torviscosa a Manzano La manzanese prende a schiaffi Un'inguardabile Torviscosa Partita in ghiaccio Già nel primo tempo Grazie ai due acuti di Cucui e Tosone Nel secondo tempo Gli orange dilagano Con i sigilli di Paolucci E Bergamasco Una manzanese brillante Divertente Cala il poker Contro un Torviscosa In giornata decisamente storta A tratti spaesato Con grosse lacune In fase difensiva E il San Luigi batte anche il tricesimo Per 3 a 0 Ottavo successo per i triestini Troppo forte il San Luigi Scrive il messaggero Secco 3 a 0 Al tricesimo E poi la Progorizia Non si ferma Sconfitto anche il Crass 2 a 0 Il risultato finale Tappin vicente di Grion nel finale Il Brianna di Birtig Brinda a Ronchi Vittoria in trasferta Del Brianna per 3 a 2 E vince anche il fiume Bannia Contro il Cordenons Per 5 a 0 Calderone buona la prima Risorge il fiume Bannia E poi gli altri risultati La Gemonese perde in casa Contro la Juventina Quarto KO In campionato Gemonese il finale amaro La Juventina passa al 93esimo Dopo la quaterna di Fiume Veneto Erano ben altre le attese In casa Gemonese Nello scontro con la pari classifica Juventina E invece la truppa di mister Bortolussi Deve mestamente archiviare La sua quarta sconfitta E la terza tra le mura amiche E vince il Fontana Fredda In trasferta a Lignano Per 2 a 1 Morandine parte benissimo Il nuovo mister del Fontana Fredda Esorisce con una vittoria Contro il Lignano 2 a 1 Il risultato finale Andiamo a vedere anche La classifica di eccellenza Così diamo un'occhiata Appunto anche Alla classifica Che vede in testa Il San Luigi A 25 punti Segue Progorizia 21 Poi vediamo Tor Viscosa e Brian A 16 Il Brian Che aveva vinto Per 3 a 2 Contro il Ronchi A casa del Ronchi E poi Lumignacco e Flaibano A 13 E via via Tutte le altre Il Fontana Fredda Il Fontana Fredda Lascia all'ultimo posto In classifica Al Crass In serie D Diamo un'occhiata Anche ai risultati Delle squadre regionali Che giocano In D Chialins, Muzzano e Chions Finita 0 a 0 E poi vediamo La sconfitta Del Tamai In casa Contro l'Arzignano Per 1 a 0 Eccoli qua I risultati Del girone C Di serie D Con il Chialins, Muzzano A metà Classifica A 10 punti Il Chions A 13 E poi Vediamo il Tamai A 8 punti Chiudiamo questa pagina Dedicata Al calcio Dilettanti E in questi ultimi minuti A nostra disposizione Andiamo a dare un'occhiata Anche Alle prime pagine Degli altri due quotidiani Sportivi nazionali Che non abbiamo ancora visto Questa mattina Andiamo Sulle pagine Di Tutto Sport E Corriere dello Sport Vediamo il Tutto Sport Che mette in Primo piano Nel taglio alto Il G3 In Italia Andiamo a vedere Cos'è questo G3 Napoli Inter E Juve 48 ore mostruose Tra domani E mercoledì I grandi Della terra Giocano Nei nostri stadi Neymar Messi E CR7 Ma anche Altri 5 top Non era mai successo Scrive il Corriere Dello Sport E poi Ancora Il Milan Con Romagnoli Che rifà il Pipita Altra prudezza Del difensore Dopo quella Contro il Genoa Gattuso vince ancora Iguain si fa male Ma con la Juve Vuole giocare Immobile Doppietta Rilancia Inzaghi Andiamo a vedere Adesso Anche la prima pagina Di Tutto Sport Il titolo Di apertura È Meraviglia Toro Con La vittoria Del Torino Amarassi Spettacolo Granata Amarassi Scrive Tutto Sport Samp Annichilita Da un gioco Sontuoso Dalla doppietta Di Belotti E dai gol Di Iago Falche E Izzo Il Gallo Ritrova La rete Di testa Dopo 574 Giorni E questa È l'apertura Di Tutto Sport Che poi Nel Taglio alto Parla anche Del mondo Dei motori Sul Pecco del mondo Titola Tutto Sport Nel Taglio Alto Chiudiamo Adesso Questa Pagina Siamo anche In chiusura Di questa Nostra Prima Diretta Di oggi C'è un Aggiornamento Di cronaca Un'ultima Ora Con un Incendio A Paluzza Un incendio In un'abitazione È successo Nella frazione Di Cleulis In una casa Dove Di Vampatto Un piccolo Incendio In una Cucina È successo Attorno Alle 6 e 30 Sono arrivati Subito I vigili del fuoco Una persona Rimasta Intossicata Dai fiumi Scusate Dai fumi Che si sono Sprigionati In seguito Alle fiamme Allarme Incendio Questa mattina Anche a Udine Ma era solo Un cestino Dei rifiuti Quindi l'emergenza È subito Rientrata E allora Prima di Salutarci Ci colleghiamo Di nuovo Con il nostro David Zanirato Che prima ci ha annunciato Anche alcuni Appuntamenti importanti Per la giornata Di oggi Allora Davida Te subito La linea Per la chiusura Di questa nostra Prima diretta Sì Angela Eccoci qua Ci siamo trasferiti In via San Daniele Dove come potete vedere È lentamente Defluito Il traffico Con gli udinesi Che sono andati Al lavoro A portare i bimbi A scuola Dicevamo Dell'agenda Di oggi Molto ricca Di appuntamenti Partiamo Dal mattino Ci sarà la riunione Del Cali Il consiglio Delle autonomie Locali Nella sede Di via Sabadini A Udina A partire dalle 9.30 Diversi provvedimenti All'esame Dell'assemblea Che raggruppa I vari rappresentanti Degli enti locali Del territorio Per quanto riguarda Invece La situazione Mal tempo In mattinata Ci sarà Dalle 10.30 Un vertice A forne a voltri Con l'assessore regionale All'agricoltura Le foreste Zanier Che incontrerà I sindaci Del territorio Per fare il punto Della situazione Sotto il profilo Della perdita Della grave perdita Del patrimonio boschivo Nella montagna friulana In alto friuli Arriverà anche Questo pomeriggio Il ministro Delle infrastrutture Danilo Toninelli L'agenda La sua agenda Di oggi Prevede Un primo incontro Alle 13.30 In municipio A Dovaro Poi un passaggio Alle 14.30 A Paluzza Nella Valle del Butte Quindi la chiusura Verso le 15 A Tolmezzo Sempre con i sindaci Del territorio Per rendersi conto Di che cosa Servirà Per risistemare I tanti danni provocati Dal maltempo Altri appuntamenti Di giornata Dalla mattinata Al pomeriggio A Palmanova Un seminario Sul pareggio di bilancio Che vedrà anche La partecipazione Dell'assessore regionale Pizzimenti Mentre al pomeriggio Alle 16.30 A Palazzo D'Aronco Qui a Udine Ci sarà la consueta Conferenza stampa Della giunta Fontanini Per spiegare Le delibere Di giornata Dunque Un appuntamento ricco Noi continueremo A seguire L'evolversi Di questa giornata Assieme Con i nostri inviati Sul territorio Con le edizioni Del Tg Per il momento Dal centro Di Udine Tutto A te Angela Grazie Grazie Davide Zanirato Per questi collegamenti Noi ci rivediamo Alle 11 Per un'altra Finestra Informativa Con tutti gli aggiornamenti Tutte le ultime Ora Di questa Mattinata Prima di salutarci Vi ricordo Anche la nostra Prima serata di oggi Come ogni lunedì C'è l'appuntamento Con il Tonight Condotto da Giorgia Bortolossi Assieme ai suoi tanti ospiti Per ritornare a parlare Di Udinese e Milan Ma anche Dei prossimi appuntamenti Ovviamente Dei Bianconeri In chiusura Di questa Nostra prima diretta Di oggi La rubrica Accadde oggi Curata da Guido Gomirato Che ci porta Un po' indietro Nel tempo E ci ricorda Cosa accadde Il 5 novembre Di tanti anni fa Vediamo Il 5 novembre 1995 L'Udinese Di Alberto Zaccheroni Neopromossa In Serie A Affronta Al Friuli Davanti a 40.000 persone La Juventus Di Marcello Lippi L'Udinese Vince 1-0 È un risultato Importante Ma lo è Ancora di più Ai fini Dei dati Statistici L'Udinese Non batteva La Juventus Da ben 33 anni E l'ultimo successo Era stato ottenuto L'8 aprile Del 1962 Al combi di Torino Segnarono Stachini Charles Per la Juventus Selmanson Delpin E Rozzoni Per la squadra Bianconera Friulana Che era allenata Da Alfredo Foni Ma torniamo Alla gara Del 5 novembre 1995 L'Udinese Sese in campo Con il 4-4-2 Battistini Elvec Calori Via E Sergio Ametrano Che giocava Da esterno destro Rossitto Desideri Il regista E Kosminski E il binomio offensivo Era composto Da Poggi E Birov Birov Che al minuto 28 Del secondo tempo Segnerà Il gol Del K.O. Della Juventus Un gol Su Mischia Quella rete È la numero 7 Di Birov In nove giornate L'Udinese Sempre in nove giornate Grazie a quell'importante Successo Salirà In sesta posizione Con 15 punti SPOE Musica FL Poggi 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 To Senteso